Tradizione, terra e passione in una goccia, una goccia di vino. Sì, perché il Vignaiolo è una delle figure centrali del vino contemporaneo. La sua esistenza è essenziale per assicurare al consumatore un vino che abbia un forte attaccamento al territorio. Il Vignaiolo coltiva la propria uva e quindi l'origine del suo vino è certificata dalle fatiche compiute in vigna e in cantina. L'origine non è un fattore secondario, soprattutto se si vuole bere un vino che sia realmente vino. Il Vignaiolo cura e segue il lungo progresso di trasformazione dell'uva in vino dal momento della vendemmia a quello della messa in vendita. Cura le sue vigne, nel vigneto dura tutto l'anno il suo lavoro, lo cura tutto l'anno per arrivare a raccogliere uva sana e ricca. Il Vignaiolo indipendente è stato al centro di un momento organizzato a Grottaglie, nell'antico coinvento dei Cappuccini, dal presidio Slow Food Grottaglie, vigne ceramiche con la prestigiosa partecipazione della FIVI rappresentata dalla Presidente nazionale dopo il momento di dibattito, una degustazione a base di capocollo di Martina Franca, formaggi grottagliesi e naturalmente ottimo vino. Il Vignaiolo indipendente parta dalla sua vigna, quindi ci pensa qualche anno prima di piantarla, poi la pianta deve aspettare che entri in produzione, poi finalmente entra in produzione, bisogna aspettare almeno 5-6 anni che il vigneto entri un po' in equilibrio per capire la materia che abbiamo davanti. Vinifica la sua uva, mette in bottiglia il suo vino, poi si occupa anche prima persona della vendita di queste bottiglie, quindi sono queste aziende a ciclo chiuso, quindi partono dalla vigna, arrivano alla bottiglia, fa di queste aziende veramente un unicum nel panorama del settore vino in Italia. Slow Food è molto attenta al territorio, è molto attenta a chi opera e chi valorizza, in particolare i vignaioli indipendenti sono delle persone che amano il loro lavoro e chiudono l'intera filiera, quindi dalla coltivazione dei terreni fino all'imbottigliamento, fino alla vendita e quindi fanno un po' di tutto, sono piccoli produttori ma produttori che ripeto amano fare questo lavoro, spesso sono vini molto importanti, vini di nicchia e che richiamano tantissimi appassionati. In questa occasione siamo stati nel convento dei Cappuccini di Grottaglie, che è la sede di Slow Food Grottaglie Vigne Ceramiche, con un numero di nostri soci, che entusiasti hanno partecipato all'iniziativa, hanno assistito prima al dibattito durante il quale si è parlato un po' delle caratteristiche dei vignaioli e quali sono le loro peculiarità.